Quattro titolari di ditte, tre campani, tra i quali un irpino e un abruzzese, sono indagati dalla Procura di Napoli nell'ambito di un'indagine su irregolarità riguardanti alcuni cantieri dell'Umbria dove sono in corso opere post-terremoto. Associazione per delinquere, illecita intermediazione e sfruttamento del lavoro, falso ideologico e materiale, inadempimento e frode nelle pubbliche forniture, false fatturazioni. Sono le ipotesi di reato formulate dalla Procura di Napoli, che sta indagando su alcuni imprenditori campani. Il PMI da Frongillo, della sezione Reati contro la pubblica amministrazione, coordinata dal procuratore aggiunto Davino, ha ordinato numerose perquisizioni eseguite dai carabinieri del NAS nelle sedi delle società Studi Commerciali e di Consulenza, a Roma e in Umbria e nelle province di Avellino e Caserta. All'inizio del mese di ottobre i NAS di Napoli hanno eseguito alcuni sopralluoghi nei cantieri aperti da ditte campane e acquisito documentazione che ora è al baglio degli inquirenti. Secondo quanto si apprende, non si esclude che dagli accertamenti, oltre a irregolarità riguardanti sicurezza e diritti dei lavoratori, possano emergere anche anomalie sull'esecuzione dei lavori e sulla regolarità nell'assegnazione degli appalti. Gli investigatori intendono anche accertare l'esistenza di eventuali collegamenti con la criminalità organizzata campana.